Buongiorno e buona domenica, 14 marzo. Ancora una volta grazie all'attività di formazione di Apler, devo veramente ringraziare i colleghi che si dedicano a questa benemerita attività. Mi trovo qui perché ai noi e ai voi dobbiamo parlare ancora una volta di normativa covid. Mi rendo conto di essere un po' la vostra persecuzione ma tant'è. Ci sono ci sono alcune novità importanti che dobbiamo che dobbiamo conoscere perché da domani ovviamente entrerà in vigore il decreto legge 30. Ma prima di parlare di quel decreto legge devo accennarvi ad un paio di informazioni rilevanti che precedono quel decreto. In particolare la legge 29 che converte in legge con modificazioni il decreto legge numero 2 del 14 gennaio sempre di quest'anno. Le cui modifiche al decreto legge entrano in vigore, sono entrate in vigore ieri, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Perché vi dico questo? Lo capirete tra poco. Allora questa legge che cosa fa? Innanzitutto prolunga fino al 27 marzo il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome salvi i soliti motivi e salva la solita possibilità di rientrare in abitazione a residenza o domicilio. Era previsto la scadenza con data anteriore è stata prorogata il 27 marzo. In realtà poi verrà superata dal nuovo decreto legge però ve lo dico perché comunque anche questa è legge e quindi magari ci sarà da fare qualche integrazione o aggiustamento. Al momento non riesco a fare delle cose così approfondite probabilmente non servirà neanche però ve lo dico così. Tenetelo a mente. Vengono inseriti anche due commi interessanti e cioè fino al 27 marzo è consentita nella zona gialla in ambito regionale ovviamente e in quella arancione in ambito comunale è consentita la solita possibilità di spostamento verso una sola abitazione privata ormai la sapete dalle 5 alle 22 non più di due persone e altre conviventi le solite cose e viene precisato che questa possibilità non è applicabile, non trova applicazione nella zona rossa. Viene ancora precisato che quando la mobilità sia limitata nell'ambito del territorio comunale, quindi ci si trovi di fatto in zona arancione, sono comunque consentiti i soliti spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, i soliti 30 chilometri con esclusione del capoloco di provincia come al solito. Quello che è curioso è che vi lancio veramente come provocazione per evidenziare che secondo me la mano destra spesso non sa quel che fa la sinistra, che se fossero opere di carità andrebbe bene, ma se sono norme, leggi e regolamenti la cosa non va, non funziona così bene. È stata fatta un'aggiunta alla parte sanzionatoria, ovvero le violazioni alle disposizioni del decreto erano sanzionate in base all'ormai famosissimo articolo 4 del decreto legge 19 del 2020 convertito nella legge 35. Perfetto. Che cosa fa la legge di conversione aggiunge? Nella rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 bis del decreto legge 33 convertito con modificazioni nella legge 74, che è la famosa integrazione che dice che i soldi delle sanzioni vanno all'ente cui appartiene l'organo accertatore. Quindi sembrerebbe da interpretare come dal momento in cui viene pubblicata la norma, quindi da ieri e solo da ieri, gli incassi delle sanzioni vanno ai comuni se accertate dalle polizie locali. Prima teoricamente no. Giusto per dimostrarvi la confusione che regna in materia, il decreto legge 30 continua a fare riferimento soltanto, ancora una volta, all'articolo 4 del decreto legge 19 2020. Sinceramente io non cambierei nulla e continuerei in questa strada che chi accerta incassa, diciamo, ma volevo evidenziare la confusione che regna sovrana. E mi fermo qua. Novità molto importante invece che vi sottolineo è l'introduzione dell'articolo 2 bis che vi leggo per evitare che qualcuno cada dalla sedia, come ho fatto subito io ad una prima lettura. Somministrazione di elementi e bevande nei circoli recreativi, culturali e sociali del terzo settore. Questa è la rubrica. Il testo. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle attività dei circoli recreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contenimento della diffusione della pandemia sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni, a ricomprese tra gli enti del terzo settore, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 117 del 2017, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto. E comunque con le solite modalità che devono essere tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o forme di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti. Che cosa vuol dire? Semplicemente che non tutti i circoli privati, le associazioni che avevano aperto un punto di somministrazione di alimenti e bevande adesso potranno riaprire, ovviamente poi in zona rossa solo con le modalità di fatto di asporto o eventuali consegni a domicilio, ma soltanto che sono appartenenti al terzo settore. E quali sono? Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri clienti di carattere privato diverse dalle società costituiti per il perseguimento senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo smolgimento di una più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore che si chiama con un acronimo orribile RUNS. Bene, il RUNS è già operativo ma non è ancora accessibile, dovrebbe diventare un registro pubblico ma al momento non diciamo l'accessibilità per il controllo non c'è. Che cosa dobbiamo quindi verificare? Dobbiamo chiedere al circolo se abbia presentato domanda per l'iscrizione al RUNS o se sia associato o diretta emanazione o associato ad una organizzazione che abbia ottenuto o abbia richiesto, comunque deve avere richiesto. Noi dobbiamo vedere se sapere se ha la domanda di iscrizione alla RUNS. Nel caso questa manchi il punto di somministrazione del circolo privato deve restare chiusa. Lo so che magari non è non è agilissima la cosa da comprendere però d'altronde è così e quindi dobbiamo adeguarci. poi altra novità. Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo dice che dal 15 l'Emilia-Romagna, il Friuli, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto diventano zona rossa per 15 giorni. Quindi da domani noi in Emilia-Romagna siamo in zona rossa. Veniamo al nuovo decreto legge. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile nelle regioni e nelle province autonome ovviamente i cui territori siano in zona gialla si applicano le prescrizioni della zona arancione. Quindi di fatto chi è giallo dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile diventa opelegis come si dice, così faccio finta di conoscere il latino, diventa arancione. Quindi direi che diventiamo in buona parte arancioni, in buona parte ahimè rossi e solo la Sardegna al momento è zona bianca. dal 15 marzo al 6 aprile di fatto viene previsto la possibilità di un passaggio automatico in zona rossa a fronte di un monitoraggio che riscontri riscontri una presenza di casi superiore a 250 positivi ogni 100.000 abitanti quindi di fatto ci sarà a fronte di un monitoraggio un pappino abbiate pazienza a fronte di un monitoraggio settimanale un eventuale passaggio automatico in zona rossa qualora vengano superate questi questo numero di di contagiati dal 15 marzo al 6 aprile è data facoltà ai presidenti delle regioni e delle province autonome di applicare delle misure stabilite per la zona rossa o anche ulteriori ovviamente motivate misure più restrittive comunque tra quelle ricomprese dall'articolo 1,2 dell'ormai famoso decreto legge 19 del 2020 a livello provinciale nelle province in cui l'incidenza accumulativa dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure nelle aree in cui la circolazione delle varianti del virus determini un alto rischio di diffusività o induce malattie malattie malattia grave quindi in caso di diffusione diciamo di varianti che sfuga un po' al controllo che faccia aumentare di molti casi dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile nelle regioni e nelle province autonome nelle quali sono stabilite le misure previste per la zona arancione è consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata sappiamo ormai con le solite prescrizioni dei minori le due persone lo conosciamo già questo spostamento non è consentito nei territori in zona rossa quindi dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile nelle zone arancioni in ambito comunale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata nei giorni 3, 4 e 5 aprile sull'intero territorio nazionale ovviamente ad eccezione della zona bianca che per ora è solo la Sardegna speriamo che ne esca qualcun'altra anche se dubito si applicano le misure della zona rossa quindi tutta Italia in quei tre giorni sarà zona rossa a meno che non sia in zona bianca ok è però consentito in quei tre giorni in ambito regionale lo spostamento verso la sola abitazione privata la solita storia che conosciamo quindi normalmente in zona rossa non è possibile diventa possibile a livello regionale soltanto nei giorni 3, 4 e 5 ok come vi dicevo le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 19 2020 con la solita sanzione e appunto come vi dicevo qui non si parla del decreto 33 quindi la confusione a regna sovrana ok seconde case lo dico perché qualcuno me lo ha chiesto ok dato che nella zona rossa è vietato qualsiasi spostamento all'interno o all'esterno del proprio comune della propria regione perché bisogna restare in casa questo significa che non è possibile nemmeno raggiungere le seconde case anche se si viaggia soltanto con conviventi e senza evitare nessun altro ok è però prevista una deroga perché mi è giunta voce che molti diranno che gli si è rotto il tubo o che ha un guasto alla linea elettrica o c'è stato un allagamento ok e allora in quel caso come stato di necessità sarebbe possibile raggiungere la seconda casa la voce che si è diffusa è visto la sentenza recente del tribunale penale di Reggio Emilia che ha assolto una persona che aveva dichiarato il falso nell'autocertificazione ok stabilendo che il dpcm adesso non sto a perdermi perché sennò non finiamo più mi hanno chiesto di dare delle indicazioni allora difficile darne diciamo così una sentenza non fa primavera ok bene salvo che il vostro procuratore della Repubblica non emetta da circolare in cui vi dica non procedete più al momento io mi comporterei esattamente come vi siete comportati fino ad ora quindi se accertate che è stato fatto è stato commesso il reato di falso in autocertificazione voi procedete come avete sempre proceduto con la sanzione con la denuncia scusate all'autorità giudiziaria ci penserà poi la procura della Repubblica ad assumere le determinazioni che riterrà più opportune però salvo che non ci sia una circolare della procura appunto io non cambierei metodo di lavoro resta comunque il fatto che se accertate che vi hanno dichiarato il falso evidentemente non accertate se scoprite se avete degli elementi insomma per dire che è stato dichiarato il falso ovviamente scatta l'obbligo di fargli anche la sanzione amministrativa quindi per quella penale poi ci penserà il giudice per quella amministrativa comunque la famosa sanzione da 2,80 o da 3,50 adesso io ribadisco le cifre non le ricordo mai bene se si è spostato in auto quella come dire assolutamente assolutamente io la farei vi ricordo però anche che c'è questa possibilità che se la famiglia si è trasferita nella seconda casa prima dell'approvazione del decreto legge e quindi di fatto è diventata abitazione i familiari che svolgono le attività lavorative ovunque queste si trovano possono sempre fare rientro presso quell'abitazione perché ovvi motivi se uno può lavorare deve spostarsi per andare a lavoro e una volta finito il lavoro ovviamente ha la la facoltà di tornare presso la propria abitazione nel frattempo ieri il ministero della salute ha emesso un'ulteriore ordinanza in cui anche la regione Marche e la provincia autonoma di Trento entrano in zona rossa il giorno prima oltre l'Emilia Romagna Veneto e quant'altro anche la Puglia anche se con diversa ordinanza quindi insomma un tot di regioni che sono diventate rosse per ordinanza del ministero della salute con questo ho finito ancora buona domenica a tutti un saluto cordiale davvero e un abbraccio affettuoso ai colleghi di Apler che mi assistono anche poi nella messa appunto nella pubblicazione di questi video e visto che mi ha tirato le orecchie gli amici e i colleghi di Reggio saluto anche loro che nonostante siano teste quadre sono dei ragazzi veramente splendidi giusto per citare Piero Loris e Lorenzo che è poi quello che appunto rende guardabile questi video grazie a tutti e buona domenica ancora grazie a tutti